Più sei capace a proteggere lo stack, a non andare a giocare in situazioni che non ti competono perché in questo momento non sei abbastanza bravo a sfruttarle, più diventi in grado di far girare le cose a tuo favore. Perché risparmi chips, eviti di trovarti qua per ora ai 100 bui, in un torneo dove sprechi le chips, qua ti trovi in Pokémon a 50. In un torneo dove le chips le utilizzi bene, magari non giochi in mani finché non vedi delle belle carte, qua da 19.000 chips passi a 16.000, poi vedi una mano buona e sali a 25-30.000, facendo chips rischiando relativamente poco. Giocando tante mani, giocate male, questo stack si riduce a 5-6.000 chips presto e poi esci dal torneo. Qua è un altro problema, tipo quello di prima. Andiamo all'in, non andiamo a fare stili imp perché sono veramente... Il limp non è che è sbagliato in senso assoluto qui, ma è la situazione in cui hai un gioco più scomodo tra tutti quelli possibili e una bassa probabilità di vittoria e rinuncia alla possibilità di avere un'alta probabilità di vittoria che quella che otteni rilanciando o andando all'in. Qua puoi andare all'in, vai all'in. Se perdi 4.000 chips, le hai perse comunque poche volte. Non vai a giocare questo piatto post-flop dove poi qua, tra l'altro, vai all'in, ma le metti al 30%, al 28%. Qua addirittura fai call che è ancora peggio perché il call sfrutta il 14%, 8 per 2, 16, sì. Altarna il 16% di chiudere la scala, fai all'in al 30-32%. E magari ogni tanto lui folda perché qui non ha niente. Quindi aumenti la tua probabilità di vittoria intorno al 40-45%. Qua fai call. E addirittura fai call qua che è proprio bruttissimo. Questo call all'in è proprio brutto brutto brutto. Qua hai trasformato la possibilità di fare una facile scelta corretta, o andare all'in, o raise, foldare, in tante scelte scomode, sbagliate o bruttissime. Scelta scomoda è limp, scelta sbagliata è di chiamare questo raise, scelta brutta è di non andare all'in qui, scelta bruttissima è di fare questo call all'in. Come hai trasformato una mano in cui devi fare una scelta giusta, in una mano in cui hai fatto uno, due, tre scelte sbagliate. Se dovessi scegliere una mano in cui spiego come complicarti la vita, è questa, sarebbe questa. perché qui avresti, non dico che avresti, cioè se fossi andato all'in, avresti perso comunque lo stesso quantitativo di chips, ma facendo una scelta corretta, rilanciando avresti perso meno chips, ma non conta il risultato finale, non te ne frega niente del risultato finale a te, ti frega quello che hai fatto che era sotto il tuo controllo. Grazie. 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 Grazie.